Musica Musica Fai in testa a coda, tira all'indietro. Mi fa un traghetto, diciamo, e si viene da soli, che mi fanno? Si sono partiti in parallelo alla piscata, a 20 metri, ma è uguale, c'è una corrente. Gli è bastato? Gli è bastato, si è lasciato andare. Aspetta, guardatelo voi, buttategli una coperta addosso. Grazie a tutti.